Sì, perché ritengo che sia un atto che non tiene conto dei diritti dei più deboli. Io credo che sia giusto che ogni figlio sappia qual è l'identità dei propri genitori, quindi anche di suo padre. Creare un figlio che sia orfano di padre consapevolmente credo sia un'ingiustizia nei confronti del figlio. E poi ritengo anche dal punto di vista etico scorretto sacrificare otto embrioni per avere un successo, cioè di una fecondazione. Quindi credo che sia una cosa doverosa quantomeno riflettere su queste scelte e non farle così a cuore leggero come le regioni hanno voluto fare. In particolare fa riflettere il fatto che queste metodiche siano inserite nei livelli essenziali di assistenza, quindi siano a carico del Servizio Sanitario Nazionale, quando sappiamo quante fasce di popolazione non sono debitamente tutelate in questo senso. Oggi abbiamo ancora lunghe liste d'attesa di persone che chiedono di fare delle diagnosi o avere delle analisi per malattie importanti e gravi, devono attendere mesi. Non abbiamo soldi nella sanità, nel senso che le risorse sono sempre più scarse rispetto ai bisogni che stanno aumentando anche perché la popolazione sta invecchiando. e troviamo soldi invece usati per qualcosa che non è parte della sanità, perché bene o male, qui non parliamo di curare le persone, ma parliamo semplicemente di creare delle opportunità per avere un figlio a delle famiglie, cosa di per sé legittima, però deve essere fatta senza pregiudicare i diritti degli altri, soprattutto dei più deboli. Io non posso dire che il figlio non è un diritto, ma il figlio è un dono, cioè il figlio non è qualcosa che si acquista dal supermercato. Qui c'è un rischio ovviamente altissimo anche di deriva eugenetica perché uno si programma l'acquisto del figlio.